Stavolta sarà davvero la volta buona. Marco Sanzovini infatti non è mai stato così vicino a sposare il progetto Teramo, da Cremona in Biancorosso via Pescara. Già il Pescara, la società di appartenenza del sindaco che gli aveva proposto di allungare il contratto in scadenza nel 2017 per altre due stagioni, spalmando il compenso che Sanzovini avrebbe dovuto percepire, aumentato del bonus per la promozione in Serie A. Una proposta valutata con attenzione dal centravanti, che si è preso qualche giorno di tempo per riflettere e decidere se quella fosse la soluzione migliore per lui. Ieri l'ha accelerata, con i contatti sempre più insistenti nel corso di una giornata frenetica nella quale Sanzovini fa sapere che per lui è tutto a posto, non ci sono problemi e aspetta di poter vestire il Biancorosso, col Teramo che nel frattempo aveva annunciato da poche ore Lucaforte, già in ritiro dovindogli. Oggi pomeriggio a Pescara incontro tra il giocatore e il suo agente, la società bianca azzurra e il Teramo, che in questi giorni era rimasto alla finestra con l'attaccante che aveva dall'inizio comunque detto sì alla proposta della società del presidente Campitelli. Poi dovrebbe essere la volta delle firme sui contratti, col giocatore che stasera o al più tardi domattina dovrebbe aggregarsi ai nuovi compagni di squadra. Adesso il reparto avanzato è composto da Croce, Petrella, Forte e Sanzovini, sono in quattro e con caratteristiche differenti. O meglio, solo Croce e attaccante di struttura, ma dopo una riflessione attenta tra società e allenatore il mercato davanti potrebbe essere chiuso qui. Insomma, Sanzovini inizia una nuova avventura, di nuovo in Abruzzo dove ha fatto vedere il meglio di sé. L'auspicio dei tifosi del Teramo è che regali le stesse soddisfazioni che ha già regalato in bianco azzurro.